Tra l'altro Goku immagino che si stia allenando molto, infatti la sua forza è lievemente aumentata. A quanto pare neanche tu sei ancora riuscito a trovare il leggendario Super Saiyan, non è vero? Ecco, li stanno per atterrare! Eccolo là! Non capisco, la sua è una non aura in eccessi... Basta, Broly! Vorrei proprio sapere di chi si tratta. Sta sviluppando una potenza incredibile! Sei molto coraggioso! Il tuo valore mi coglie di sorpresa! Che cosa? È meglio evitare lo scontro ravvicinato. Forse hai ragione. Anche lui riesce ad aumentare la sua potenza combattiva! Carooooooon... Smenti i abbroni! Grazie a tutti